La gente mi ferma e mi dice Ah, ma lei come assomiglia a Graziano? Il viso le assomiglia molto Cioè, però Graziano era molto più basso, era più piccolo di lei Non che non ci preoccupiamo dei lati fisici esteriori Anzi, i costumi vengono curati al massimo Non so, io mi pettino come si pettina a Graziano Cerco di avere certe stesse movenze, la stessa agilità Tutte le mattine faccio mezz'ora di ginnastica per inventare le scena Per avere questa agilità felina, direi Ma tutte queste cose non sono quelle che ci preoccupano fondamentalmente Quello che ci preoccupa e su cui abbiamo messo l'attenzione Di Zane Dio, è sul suo modo di pensare Sul suo modo di sentire, insomma, sulla sua psicologia